Partiranno il prossimo 20 ottobre i nuovi corsi del 34esimo anno accademico dell'Uni3, l'Università delle Tre Età di Tolentino. È tornata a trovarci Mirella Valentini, con lei quest'oggi approfondiamo ed entriamo più nel dettaglio del ricco e variegato programma che prevede diversi corsi accademici e davvero tantissimi laboratori. La parola a te allora, Mirella. Allora, devo dire che il programma di quest'anno è più che mai vario e ha tantissime novità. Dei corsi sono due eccellenti e dei laboratori sono sei novità. Quindi direi che se la scelta era varia, variegata, adatta a tutti prima, adesso lo è ancora di più. Per quanto riguarda i corsi accademici, noi come le università vere abbiamo, chiamiamoli le sezioni, no? Sezioni che si ripetono cambiando sempre, non solo il programma, ma anche i docenti, molto spesso i docenti. Ogni corso è sviluppato in almeno dieci lezioni, ma quasi tutte ne hanno 14, 13, 16, divisi in quadrimestri, in trimestri. Primo trimestre da ottobre a gennaio inoltrato, secondo trimestre da gennaio inoltrato fino agli inizi di maggio. Dunque, i corsi accademici, io comincio da quello che ci dà più prestigio, perché abbiamo un rapporto di collaborazione scientifica con l'Università di Macerata, che è al secondo anno. Questo rapporto è per tre anni. L'anno scorso ha avuto un grande successo, perché era aperto a tutti. Attenzione, è come se l'Università si muove sul territorio, è come se questo corso che è a Tolentino stesse a Macerata. Noi siamo obbligati ad aprirlo a tutti, senza iscrizioni. Chi vuole partecipa a questo corso. Si tiene il mercoledì, il primo trimestre, quest'anno si occupa di un discorso molto coinvolgente per tutti. Donne, carisma, poteri, esperienze di leadership nelle biografie femminili. Qui ci sono tutti i specialisti dell'Università, praticamente il cavallo di battaglia di ognuno di loro. Quindi sarà molto bello, come il solito, perché quello che promettono poi mantengono. L'altro corso completamente nuovo è Poesia e Musica. Sono divisi tra di loro. La musica è fatta per conoscerla e amarla. Entriamo dentro proprio la tecnica della musica, ma in un modo coinvolgente, in un modo che diverte, non annoia. Abbiamo differenziate tre lezioni proprio su che cos'è la musica, come è fatta, come si ascolta, e due invece un po' particolari. Una, un concerto, è chiaro, ci deve essere in un corso di musica, e un altro che parlerà di opera lirica. Sono tutte persone altamente specializzate. Per la poesia, vedete, noi abbiamo al di dentro, abbiamo avuto, come si può dire, docenti di più parti del mondo, o specialisti. Per esempio, il specialista dell'Islam viene da Roma, dall'Università di Roma. Allora abbiamo chiesto loro di parlarci della poesia dei loro paesi. Per dire, abbiamo la poesia latinoamericana, dalla nostra insegnante di lingua. Poi abbiamo la poesia araba, e poi abbiamo la poesia persiana, la poesia canadese. Quindi tutte cose inedite, che non sono mai apparse in nessuna, posso garantire, delle scuole simili alla nostra che si trovano nel territorio. Quindi l'invito a questa poesia in musica, che si tiene al Politeama, come si tiene al Politeama, donne, carisma e potere. Tutti i corsi accademici si tengono al Politeama, escluse le lingue. Allora, vediamo, prevalgono le materie letterarie, proprio su scelta delle persone che frequentano, e sono così in quasi tutte le università della terza età, che non sono magari un 1 in 3. Spiegherò poi in un'altra intervista la differenza tra le 1 in 3 e le altre, cioè le caratteristiche peculiari. Quindi, che cosa possiamo dire ancora? Che abbiamo docenti, la maggior parte, come avevo detto, delle università, se non da paragonarsi e trovandoli simili. Per esempio, in Di letteratura c'è Lucia D'Ancredi, la scrittrice, che tra l'altro, tra i primi eventi dell'1 in 3, presenterà il suo ultimo libro. Quindi, in Di letteratura parlerà lei di letteratura moderna e contemporanea, e ci saranno poi altri docenti, fino a raggiungere più di 10 lezioni. Poi abbiamo un corso che è in tutte le università, si chiama Radici, ma lo chiamano in tanti modi tradizioni popolari, e andiamo proprio a vedere l'arte, le storie, le tradizioni popolari, molte delle marche o non delle marche delle regioni vicino. Ma sono tutti argomenti in cui ci ritroviamo, perché le radici sono in parte uguali per tutti. Poi cominciamo a parlare di corsi para-universitari, nel senso che ci sono quasi tutti i professori universitari, le civiltà del passato, e quindi abbiamo la storia, l'arte, la religione e la cultura. A volte si toccano argomenti molto particolari, per esempio ce n'è uno che parlerà del bagno nell'impero bizantino, come era inteso il bagno. Quindi anche che ricoprono un ambito di curiosità, di intrattenimento. Poi un classico è l'arte svilata che c'è dall'inizio dell'Uni 3, come c'è dall'inizio dell'Uni 3 radici. Parleremo, faremo una lettura storica e cronografica delle varie arti visive. Non è detto che sia solo pittura, c'è per esempio anche fotografia. Poi amiamo allargare i campi della cultura, per noi c'è anche una cultura cinematografica. Quindi siamo in collaborazione con il Giometti Multiplex di Tolentino, la decima musa, lezioni di cinema che avvengono in questo modo. Si dà una scheda all'inizio, poi finito il film e chi vuole si ferma per approfondire. Abbiamo uno specialista. Inoltre, ecco, questo è il fiore all'occhiello per i giovani. Abbiamo due, tre corsi d'inglese. Inglese serale, per quelli che lavorano, inglese base e inglese corso avanzato. Poi abbiamo lo spagnolo, in cui l'insegnante giostrerà per poter accontentare tutti a vari livelli. È bravissima, insegna da noi da diverso tempo. Volevo dire che sia l'insegnante di spagnolo che quello di inglese sono insegnanti di madrelingue. Quindi non si studia la grammatica, ma si parla. Quindi escono da queste, sono 15 lezioni per corso, parecchie. E alla fine, quando escono, il loro inglese è più saldo e più sicuro. I laboratori. I laboratori sono il fiore all'occhiello dell'Uni3, perché ne abbiamo tanti. E tenendo conto del pubblico che abbiamo, prevalgono come numero quelli che riguardano il corpo. In modo che ciascuno scelga qualche cosa per coltivare il corpo, perché il corpo non decada, per rimanere liberi nel movimento. Quindi abbiamo la ginnastica dolce e diversi corsi, anche serali. Poi abbiamo il nordic walking, che introduciamo quest'anno, quindi è una novità. Poi il dance fan, poi abbiamo il pilates per il pavimento pelvico, poi abbiamo lo yoga e la ginnastica cinese. Scusate, tutti i pregiudizi sulla ginnastica cinese cadono quando cominciano a frequentare i corsi. Vedono l'importanza, come e quanto influisca sul corpo. E attraverso questa pratica, ginnica, chiamiamola così, cominciano a intuire qualcosa del mondo orientale. La stessa cosa con lo yoga. Poi abbiamo quattro corsi che diciamo femminili, ma sono frequentati anche da uomini, che sono bisotterie monili, macramè, si fanno anche gioielli, chiacchierino. Il chiacchierino è poco conosciuto, è una qualità artistica antica, molto antica. Si lavora con una spoletta grande così, però si fanno dei lavori splendidi. Poi c'è anche il lago e un cionetto, ma mica il lago e un cionetto tradizionale, no, perché c'è il punto croce, c'è il granny, c'è il sampler, quindi sono aggiornatissimi i nostri insegnanti. Adesso vediamo quelli per la vita quotidiana, per migliorare il nostro vivere, il nostro stare al mondo, c'è l'informatica utile, che aiuta ad espletare pratiche di ogni genere. Poi ci sono tre, quattro corsi artistici. C'è la pittura classica moderna e dalla matita all'acquarello. Inoltre c'è la decorazione di mobili, cornici, specchie, oggettistica varia e mosaico. Attenzione, il mosaico è nuovo, perché è quello della tradizione ravennate, quello con i pezzetti di vetro con i quali si vanno a costruire pannelli, quadri, cose di ogni genere. È un nuovo, bravissimo insegnante, quindi come vedete ricopriamo un po' tutti quanti, tutte le pratiche artistiche, le pratiche proprio di lavoratorio. Per partecipare a questi laboratori bisogna arrivare presto, perché sono per la loro natura a numero chiuso. Non può un laboratorio avere 40 iscritti, ne può avere poco più di 10, perché il maestro li possa seguire. Poi tutti i prodotti del laboratorio se li portano via, quindi vanno a fare regali. Pensate quanti regali si possono fare con bisiotterie monili, con macramè, con ghiacchierino, moltissimi. O ornano le casse o li fanno per preparare i regali ai loro cari. Quindi vi invito a pensare a iscrivervi, perché costa poco. Abbiamo la quota associativa a 50 euro. Poi ci sono dei ticket che vanno da 3 euro a 40 euro, sia per i corsi che per i lavoratori. Quindi praticamente costa poco. Pensate solo le lingue dove trovate questi prezzi. E sono insegnanti molto molto bravi. Noi riceviamo l'iscrizione dal 23 settembre all'11 ottobre nella sede di via Rutiloni 14 e l'ex mattatoio. I giorni sono lunedì, mercoledì e venerdì di pomeriggio, martedì e giovedì di mattino.